Ciao a tutti amici youtubers, oggi sono qui per insegnarvi a mettere un'animazione sullo schermo del vostro iphone sia esternamente come vedete qui che internamente come vedete di qua la stessa animazione può essere messa anche nella barra del centro notifiche di qua ma io non ce l'ho messa perché preferisco avere altre cose lì vi insegnerò sia dove prendere il programma craccato sia come installare i vari motivetti e sia come funziona principalmente bisogna dare sussidia e scrivere nel cerca animate all, oddio attaccato mi raccomando all oddio perché non se lo prende? eccolo qui animate all allora di animate all ci sono due tipi o animate all normale o animate all hd hd è esclusivamente per ipad quindi no in questo caso non vi posso dare alcun tipo di aiuto perché non possiedo un ipad e non so quale di questi programmi funzioni però posso dirvi che animate all che ho io generico funziona su ipad ipod e iphone sicuramente l'originale è quello di big boss naturalmente ma si paga e siccome non spendo soldi per comprare cose craccate non avrebbe alcun tipo di senso ne ho trovato uno craccato solamente per noi questo lo possiamo riprendere da bit your apple e la ripostiti avete aggiunto questa ripostiti bene allora dovrete installare e confermare questo animate all è compatibile dagli os 6.1.1 per iphone 4s e dagli os 6.1 compatibile con tutti i dispositivi apple fino a qui scrive qui non lo scrive perché generalmente scrive solamente quanta gente lo ha scaricato ma comunque dovrebbe essere compatibile persino con ios 5 bene ora che lo avete installato non comparirà niente nella vostra desktop dell'iphone infatti dovremmo andare nelle impostazioni e scendere e andare su animate all ed ecco qui il nostro programmino vi spiego immediatamente come funziona allora per prima cosa c'è scritto animate look screen che sarebbe all'animazione di questa pagina poi abbiamo l'animate home che sarebbe l'animazione quella dietro dove si trovava sidia e poi l'animate notifica che è l'animazione proveniente qui dall'alto e poi abbiamo scegli animazione che ve lo mostrerò tra pochissimo e scarica animazione scarica animazione potrebbe io generalmente faccio nuova animazione non una propria animazione perché diventa una cosa più difficile da fare non mi interessa andando su nuova animazione vi aprirà direttamente sidia ma comunque vi farò vedere come entrarci direttamente da sidia perché questo qui vi intera su sidia ma non vi permetterà di fare altre cose in senso non potrete girare su sidia dovrete riuscire e riandare su sidia poi c'è il resping che è il riavvio abbiamo il numero di immagini cioè il numero di immagini che fa girare e mi raccomando non mettete il numero di immagini superiori a 40 perché il telefono vi crasha sicuramente inizierà a buggarsi sarà più lento e così via già avverto che questo programma però non è adatto a telefoni lenti cioè per chi ha un iphone 3gs o 4 una pod di terza o quarta generazione dovrebbe dare problemi se vi accorgete che il vostro ipod iphone e ipad è già lento non lo fate di principio perché vi si rallenta un sacco il mio iphone invece è velocissimo e lo ha rallentato talmente poco che me ne sono accorto solamente quando ho aperto un gioco che mi ha impiegato un paio di secondi in più neanche quindi in questo caso non ci sono problemi durata animazione è quanto deve durare l'animazione cioè la velocità se mettete uno andrà velocissimo quindi sarà orripilante se mettete il massimo andrà talmente lento che prima che la vedete tutta poi qui c'è reset default che in caso avete fatto talmente tanti errori cliccate reset default e vi si pulisce tutto e poi l'ultima parte è per gli sviluppatori però non ci interessa andando su scegli animazione io ne ho scaricate alcune che sono queste qua ma purtroppo non vi permette di vederle però fortunatamente insieme ad animate all vi si dovrebbe scaricare anche boot logo se non vi si scarica a forza di scaricare programmini che dopo vi farò vedere dovrà uscire per forza e i primi due troverete obbligatoriamente e non ve li fa mostrare vedete che qui in alto è scomparso previem e poi invece qui ci sono altri vari tipi quindi per esempio c'è il simbolo dell'Apstergo che cambia in Apstergo poi c'è Assassin's Creed che cambia comunque ci sono vari tipi c'è GTA però GTA non mi piace perché cambia in GTA ma poi c'è scritto del gennaio del 2013 che stanno già a febbraio e GTA 5 non è uscito sembra un po' una presa in giro poi c'è Galaxium che è uno dei programmini più grandi di tutti ma è pieno di bug infatti se adesso ve lo provassi ad aprire si chiuderebbero le impostazioni perché non funziona bene poi c'è per esempio Sparta vedete qui si sparta e lo butta dentro il buco poi abbiamo per esempio Agli Angry Bors ce ne sono tanti tipi ora non ve li farò vedere tutti c'è Pac-Man poi abbiamo magari il mare che è un'animazione bella eh lo vedete alcune volte può crashare ora me crasha perché sto facendo il video e quindi la RAM è già piena di suo eh comunque voi per scegliere la vostra animazione basterà che andate su Scegli Animazione ne impostate una per me è impostato ICS cioè è questa animazione che gira e poi scusate se faccio questi giri cliccate su Respring e vi riparte il telefono con l'animazione e con tutte le modifiche che avete apportato però non è che voi troverete questi elementi all'interno voi dovrete andare a scaricarveli per scaricarveli ci sono due modi il primo è andare su Cerca e scrivere scusate Boot Bot Logo però come vedete sono poche le scelte cioè al momento sembrano tanti ma in realtà sono poche invece se noi andiamo su Categorie Addons Boot Logo troveremo tutti Boot Logo che vorremmo scaricare di tutti i tipi abbiamo dell'Android dell'Android che mangia l'Apple l'Apple che mangia l'Android tutto ciò che volete tutto ciò che potrebbe essere bello Apple 3D HD generalmente essendo fatto da ModMy prima di installarlo vi conviene fare screenshot e vi mostrerà come funziona cioè le immagini che fa vedete qui si diventa strano e poi fa una specie di mela 3D ora magari vi farò vedere se ne trovo uno carino magari di installare vi mostrerò come per esempio funziona qui c'è la mela mi sembra piuttosto stupido ora perché io ne ho già installate tantissime quindi mi sembra piuttosto strano cioè tantissime di quelle belle perché vanno rispetto ai gusti sono comunque tutte animazioni .gif cioè che vanno a movimento comunque io vorrei prenderne una piccola in modo che vi mostro come funziona vediamo questa qui com'è è già 3MB è tanto non è che è tanto di sua è tanto che poi il video dura interno ecco questa qua che è piccolina ora non so neanche cos'è noi confermiamo lui inizierà a scaricare normalmente ecco qui ha quasi fatto la installerà e tutte le volte vi dirà ritorna a sidia guardate ritorna a sidia tutte le volte e sarà già pronta per l'utilizzo non dovrete neanche riavviare il telefono vedi poi io adesso vabbè la lascio magari per vedere dopo cos'è ma poi si può anche rimuovere non è obbligatorio tenersele e basta penso che così naturalmente ci sono dei gusti stare attenti perché non vanno a nome alcune volte per esempio qui c'è scritto pacman per primo ma alcune volte potrebbe essere scritto dopo però mi pare di avervi detto tutto e spero che di esservi stato utile ciao a tutti da super youtube 17 17 Grazie.